Musica Ed ora occupiamoci del terzo valico, 50 avvisi di garanzia sono stati notificati ad attivisti Notab. Le indagini della polizia si sono concentrate sui fatti del 5 aprile, quando la manifestazione ad Arquata degenerò in scontri tra le accuse violenza e minaccia pubblico ufficiale. Resistenza, lesioni aggravate e danneggiamento. Sui Notab pesa una richiesta di risarcimento danni per oltre un milione e mezzo di euro. I manifestanti raggiunti dall'avviso sono per lo più residenti della zona. Solidarietà alle persone coinvolte arriva dal mondo Notab, così come l'annuncio di una nuova manifestazione il 21 giugno, sempre ad Arquata scrivia. E intanto sono uscite le motivazioni della condanna, 4 mesi di Beppe Grillo, quando nel dicembre del 2010 in Valle Calarea entrò rompendo i sigilli nella baita simbolo dei Notab, scrive il giudice Elena Rocci, si dimostrò sprezzante degli avvertimenti ricevuti dal comandante dei carabinieri di Susa. Grazie. 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 Grazie.